Mentre il Nantes, avversario dell'Inter in Coppa UEFA, ha vinto in Francia una gara esterna con il Nancy, il Barcellona, avversario della Juventus in Coppa dei Campioni, ha perduto con il punteggio di 3-1 lo stesso della vittoria del Nantes a Madrid con il Real a Santiago Bernabeu. Il Barcellona era andato in vantaggio al settimo del secondo tempo con Amarilla, poi le tre reti dei bianchi madrileni, Maseda al diciottesimo, Valdano al ventunesimo ed infine il terzo gol di Butraghegno al trentasettesimo dopo che Archibald del Barcellona era stato espulso. Ed ecco la terza rete di Emilio Butraghegno.